Il libro Difendere il cuore delle donne è una sorta di manuale di autodifesa per il cuore delle donne. È stato scritto per far sapere che le malattie cardiovascolari colpiscono le donne tanto quanto gli uomini ed è diviso per fasce di età in modo da consentire a tutte le lettrici di approfondire le caratteristiche del loro cuore per ciascuna fascia di età, conoscerne i pregi e anche i difetti, riconoscere dei campanelli di allarme che noi chiamiamo sintomi, sapere a cosa sottoporsi, a quale esame sottoporsi e poi sapere a che cosa fare attenzione per mantenere in buona salute il proprio cuore. È stato scritto che quasi fa ingelosire gli uomini, prometto che il prossimo lo scriverò per il cuore degli uomini, ma adesso è molto importante far sapere alle donne che è necessario che se ne prendano cura perché solo sapendo questo e solo facendo una adeguata prevenzione si riduce del 50% quindi tutte le cause di malattie cardiovascolari nelle donne.